Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Bolton Allora, quest'oggi puntata particolarmente importante perché abbiamo soprattutto la semifinale di EFL Trophy contro il Leighton Orient quindi gara che sulla carta potrebbe essere effettivamente abbordabile però essendo una semifinale ma soprattutto una partita secca è ovvio che è molto aperta come sfida poi affronteremo anche il Forest Green e il Grimsby che sono due ottime squadre appunto del nostro campionato di League 2 perché appunto sono entrambe due squadre che lottano per la promozione in League 1 una il Grimsby che lotta appunto per la promozione fra i primi tre posti invece il Forest Green che prova a qualificarsi per i playoff comunque è tutto pronto per questa semifinale, la formazione l'ho preparata già ma prima di scendere in campo facciamoci la conferenza stampa perché essendo una sfida particolarmente importante a cui tengo molto quindi è ovvio che secondo me è giusto fare la conferenza stampa comunque come si sta comportando la squadra Leighton Orient in questo torneo non so come siamo arrivati fin qui, non mi interessa, hanno fatto bene diciamo che hanno fatto bene perché per essere appunto in semifinale deve avere per forza fatto un ottimo cammino poi ha intenzione di adottare una strategia particolare cercheremo di bissare il successo non cambierà nulla, tutti daranno il 100% è sicuramente la risposta migliore secondo me e infine riuscirete a dare seguito alle ottime prestazioni offerte dalla sua squadra di recente dobbiamo evitare le disattenzioni che deve essere il pensiero fisso nella nostra testa visto che appunto non è che siamo bravi ad evitare queste disattenzioni anche se devo dire che nelle ultime partite stiamo giocando abbastanza bene anche dal punto di vista difensivo diciamo che li vedo molto più attenti secondo me l'arrivo di Collins ha fatto la differenza poi parlando di formazione ecco qui la nostra formazione che affronterà il Leighton Orient ovviamente vi ricordo che sarà gara secca non andata e ritorno come già detto prima quindi si gioca tutto in questi 90 minuti solo per dire 45 non so perché comunque si giocherà tutto in questa partita siamo anche in trasferta quindi mi raccomando facciamo attenzione comunque Alexander in Porta poi Bachelen, Greenwich, Collins e Jones centrocampo con Naidam, Kamali e Sarcevic in attacco abbiamo Lewis Potter, Ricky, Jade Jones e Icegrove sulla destra invece il Leighton Orient che scende in campo con un 4-3-3 di contenimento tutto pronto raga le scuole sono in campo batte prima il Leighton Orient tra la partita è già iniziata forza ragazzi concentrati andiamoci a prendere questa finale Occio Naidam prova a servire dentro in velocità Ricky Jones il pallone è passato molto bene va Ricky Jones col destro ma che cos'è sto tiro Ricky? prima volta che mi fa un tiro del genere in tutta la stagione incredibile Occio che possiamo ripartire Naidam buoni pallone per Ricky Jones dentro per Sarcevic che riesce a passare molto bene Anthony Sarcevic il nostro capitano tocco al retrato per Ricky Jones a cercare Naidam che un po' di spazio può andare fa partire sinistro Tristan Naidam siamo in vantaggio 1-0 in semifinale eccolo qui Tristan Naidam che va ad esultare con i suoi tifosi che sono accorsi in tantissimi per questa trasferta molto importante per il nostro Bolton visto che è una competizione che a questo punto voglio assolutamente provare a vincere visto che appunto ne abbiamo vinte praticamente tutte in questa coppa quindi mi sembra giusto a questo punto provare anche ad alzare il trofeo anche se diciamo ci sono stati appunto qualche vittoria la calce di rigore forse di troppo però l'importante era passare i turni e siamo arrivati fino in semifinale adesso l'abbiamo anche sbloccato con il nostro Tristan Naidam che segna il suo primo gol in questa competizione e occhio ancora Sarcevic qui c'è spazio per lui spotter palla un po' troppo corta ma buoni passaggio per Ricky Jones e arriva subito in raddoppio 2-0 Bolton 1-2 micidiale da parte dei nostri ragazzi si segna ovviamente Ricky Jones che qui molto bello va ad abbracciare Ugly Buff in panchina molto molto bene raga qui ancora i nostri ragazzi che continuano a festeggiare era diciamo la partita che bisognava fare il Leto Noria interna una squadra che diciamo poteva contare sul calore del proprio pubblico sulla spinta del proprio pubblico essendo in casa quindi diciamo il pericolo era dietro l'angolo quindi siamo stati bravissimi a appunto riuscire a fare due gol a distanza ravvicinata addirittura nonno gol in coppa per Ricky Jones che diciamo se ne ricordo male viene da un poker ho già adesso però la risposta dell'Eton Orient con Wilkinson qui Sarcevic brutto fallo abbastanza inutile è il limite dell'area vi raccomando facciamo attenzione andrà a battere Dayton parte col sinistro piazzato palla fuori però qui Sarcevic non deve fare un intervento del genere così pericoloso diciamo qua si è vista l'inesperienza di un non difensore occhio Bacinen buono il passaggio per Naidam vedi qui Sarcevic che si inserisce molto bene Sarcevic evita l'uomo Anthony Sarcevic traversa glamorosa c'era anche Iceglob che si era messo avanti qui occasione clamorosa per fare il 3-0 e provare ad andare all'intervallo con un vantaggio veramente cospicuo qui errore clamoroso alla fine di Sarcevic perché appunto poteva durare forse anche prima però diciamo era veramente con la porta spalancata diciamo errore non da lui comunque vabbè non pensiamoci troppo perché poi si rischia di vabbè non concentrarsi più meglio così comunque termina il primo tempo partita che ha visto effettivamente poche conclusioni nello specchio delle porte però sicuramente meritiamo di stare in vantaggio occhio qui Sarcevic bravissimo Tristan Naidam no palla fuori che cosa si è mangiato Naidam di solito non le sbaglia mai queste conclusioni errore incredibile da parte del nostro centrocampista poteva far doppietta incredibile veramente occhio palla per Icegrove che può avanzare Icegrove qui bravo ad intrufolarsi in aria Sarcevic dentro per Ricky Jones palo clamoroso lui spotta e non è fuori gioco è tutto buono 3-0 3-0 ha segnato lui spotter dopo un palo clamoroso colpito da Ricky Jones arriva lui spotter che a porta vuota non poteva veramente sbagliare qui ancora invisibile i nostri tifosi qui bravo Sarcevic a servire Ricky Jones che ha preso un palo veramente incredibile con tutta la porta avanti quest'oggi non vogliono fare i gol semplici evidentemente comunque qui alla fine è arrivato un gol semplice con lui spotter che a porta completamente vuota non poteva fare altro che mettere il pallone in rete e portarci sul 3-0 Bolton molto bene ora mi sento un po' più tranquillo anche se la partita è ancora molto lunga però diciamo che abbiamo mezzo piede in finale occhio qui Ricky Jones che prova a fare questo lancio molto bene per Icegrove Icegrove aspetta l'inserimento di qualcuno stava arrivando Comley mi sembra addirittura forse più probabilmente era Sarcevic infatti era proprio Sarcevic comunque qui ottima chance Icegrove non poteva tirare perché era troppo defilato e Sarcevic era ancora un po' troppo arretrato però ci ha provato lo stesso qui attenzione all'Eton Orient bravissimo Collins che è veramente un muro veramente un ottimo acquisto ma attenzione palla in aria il tiro di Walkinson palla fuori e comunque questa qui con Walkinson è praticamente la prima azione pericolosa da parte dell'Eton Orient quindi questo vuol dire che abbiamo fatto sicuramente un'ottima prestazione anche in fase difensiva qui occhio Sarcevic che prova da zalla per Jones che però si è fermato e a un quarto d'ora dalla fine arrivano le tre sostituzioni per il nostro Bolton in campo Nuaú per Ricky Jones dentro Bapaga per Ice Club e anche Darcy al posto di Sarcevic occhio Comley buoni pallone dentro per Nuaú a cercare Darcy vede l'inserimento di Dindam che a sua volta allarga per Lewis Potter che fa partire il sinistro Lewis Potter 4 a 0 discorso completamente chiuso adesso sì che possiamo dire che siamo in finale di EFL Trophy competizione che riuscire a vincere già alla prima stagione potrebbe essere veramente un obiettivo fantastico io speravo di vincerlo appunto nella seconda stagione però sembra che adesso siamo riusciti ad arrivare in finale e a questo punto in finale contro il Colchester e che appunto sappiamo già la nostra avversaria proveremo a dare il tutto per tutto per riuscire ad alzare il nostro primo trofeo ufficiale qui ancora Lewis Potter che infila col sinistro il pallone in porta e arriva la sua doppietta personale è perfetto raga arriva anche il fischio finale questo gol di Lewis Potter è arrivato proprio alla fine con il Leto Norient che era stanchissimo ha fatto una partita intera veramente a rincorrerci quindi era anche giusto così qui Collins che è veramente molto alto guardate la differenza con Lewis Potter è sicuramente il difensore che faceva a caso nostro comunque raga adesso sì che possiamo dirlo definitivamente ufficialmente siamo in finale conferenza stampa post partita qui ci chiedono come abbiamo fatto a vincere diciamo che dura allenamento e lavoro di squadra che sicuramente è il nostro karma il nostro karma diciamo non c'ha senso però comunque è il nostro modo di agire il nostro modo di lavorare ogni settimana qui fanno i complimenti anche a Lewis Potter che ha fatto sicuramente una grande prestazione e infine la partita di oggi sarebbe potuta finire diversamente diciamo assolutamente che adesso dobbiamo pensare alla prossima partita e finale che andremo a disputare vediamo un attimo dovrebbe già essere in calendario eccolo qui il 3 aprile quindi raga fra non molto praticamente nella prossima puntata teoricamente già abbiamo questa partita da disputare infatti Cambridge Letton Orient e poi sfida contro il Coachester che adesso devo vedere se farla in una puntata sola perché poi raga facendosi anche il calcolo il campionato finisce il primo maggio quindi praticamente ormai ci manca veramente poco perché quest'oggi faremo appunto queste due partite Forest Green e Grimsby poi abbiamo Cambridge Letton Orient appunto questa finale poi Port Vale Harrogate col Chester e infine abbiamo il Southern e l'Hold da Matredi quindi raga ormai ci manca veramente poco peccato che questa partita capita nel momento sbagliato perché capita a cavallo fra la terza partita di un episodio e una nuova puntata quindi diciamo per me che prova ad essere preciso sotto certi aspetti potrebbe essere un problema organizzarsi però sicuramente troverò una soluzione ma comunque adesso concentriamoci per questa partita di campionato contro il Forest Green è sicuramente molto importante perché appunto siamo completamente in lotta per la vittoria del titolo quindi è importante continuare a vincere facendo i calcoli visto che mancano a noi al South 4 City nuove giornate ci sono ancora 27 punti in palio in caso di appunto il South 4 City riuscisse a vincere tutte le partite andrebbe a esattamente 100 punti quindi a noi per vincere il campionato servirebbero ancora 16 punti quindi questo vuol dire 16 punti sono 5 vittorie e un pareggio quindi è ancora molto presto per iniziare a festeggiare a dare per certa la vittoria del campionato quindi andiamo ad affrontare il Forest Green ci sono chiaramente dei cambi visto che sono ancora particolarmente stanchi alcuni dei nostri giocatori migliori quindi abbiamo Alexander in porta poi Bachelard Tuft Collins e Brookbank centrocampo Oglebuff Comley e Darcy in attacco Porydich Ricky Jones e Icegrove e in più raga non dimentichiamoci che fra meno di due giorni o comunque meno di tre giorni abbiamo la sfida contro il Grimsby che è appunto anche quella è una squadra che è terza in classifica quindi per nulla facile da affrontare comunque è tutto pronto possiamo scendere in campo oh c'è Ricky Jones qui palla splendida per Darcy che può subito sbloccare questa partita e lo fa 1-0 volevo dire subito ma mi sembra che mi sia uscito subito comunque 1-0 siamo in vantaggio qui grandissimo gol di Darcy ma soprattutto c'è da menzionare l'assist splendido da parte di Ricky Jones che praticamente senza guardare ha servito questo diciamo passaggio lungo per Darcy che in 1-1 contro il portiere Mcg non ha sbagliato molto bene l'abbiamo sbloccata subito era importante fare un inizio sprint perché avendo la scuola particolarmente stanca serviva una partenza del genere occhio ancora Ricky Jones che porta palla ancora un assist per Darcy sembra essere fuorigioco stavolta infatti è così aveva comunque centrato il bersaglio il nostro Darcy vediamo di quanto era questo fuorigioco ma in pratica c'è di rotula praticamente occhio al Forest Green che adesso prova a rendersi pericoloso Marsh che più che avere i capelli bianchi sembrano blu comunque arriva un carcio d'angolo per il Forest Green che lo batterà Winchester vediamo un po' palla dentro attenzione Matt la tocca alla fine Alexander riesce a bloccare occhio Darcy ottimo pallone ottima palla dentro per Polidic che può sterzare Polidic tocco ancora per Darcy bravissimo Darcy ma che partita sta facendo il nostro Roland Darcy quest'oggi il nostro sostituto di Sarcivic che sta crescendo veramente tanto se continua a crescere con questa continuità con questa velocità piano piano potrà pensare anche di rubare il posto al nostro capitano che ormai ha una certa età comunque 2 a 0 abbiamo raddoppiato stiamo facendo una partita veramente strepitosa si vede che la nostra squadra vuole vincere questo campionato ad ogni costo comunque 16 gol per Darcy che non sono per nulla pochi molto bene bravissimo Ronan occhio a Ronan Darcy che vede abbastanza bene ancora Polidic che può andare Polidic ad ora nell'assist del 2 a 0 ancora Polidic sempre a servire Darcy vedi l'inserimento di Oakley Booth diciamo era un'azione perfetta tipica da parte nostra però purtroppo qui è arrivato l'anticipo proprio all'ultimo è perfetto raga termina anche il primo tempo 2 a 0 Bolton ottima prestazione si vede che ormai abbiamo acquisito una certa consapevolezza poi vabbè diciamo è sempre facile parlare prima può essere che entriamo in campo e facciamo qualche disastro nel secondo tempo comunque è importante vedere il risultato del South 4 City che qui non c'è probabilmente giocherà più tardi oppure in un'altra giornata oggi ho qui ancora Polidic che può andare c'è tanto spazio un 3 contro 2 Polidic vedi dentro da solo Ricky Jones che non può sbagliare la porta vuota arriva anche il gol del nostro Ricky Jade Jones 3 a 0 Boltono molto bene dopo la doppietta di Darcy non poteva mancare il gol del nostro Bomber che ormai è molto difficile che riuscirà a raggiungere o comunque superare il record di 55 gol del campionato comunque qui molto bravo col sinistro stava quasi in caduta è riuscito tra virgolette a recuperare a mettere il pallone in porta 3 a 0 partita abbastanza sigillato comunque raga adesso siamo a meno 10 gol dai 55 direi che possiamo iniziare con il countdown occhio qui Ocley Buff ruba un gran pallone riesce a servirlo dentro per Ricky Jones che è più veloce quindi può andare ci riprova subito e arriva il 46esimo gol immediatamente dopo il 45esimo 4 a 0 Borton stiamo asfaltando anche il povero Forest Green Rovers che non può veramente nulla contro la nostra corazzata che nonostante la stanchezza della partita di Coppa contro il Leto Orient sta comunque dominando in mezzo a campo qui bravissimo Ricky Jones a difendere anche qui guardare qui col fisico il pallone nei confronti di Kitching che sinceramente non conosco almeno mi sembra si legga Kitching comunque Kitching comunque noto che finalmente il nostro mister non è più in divisa dal gioco speriamo che si sia risolto definitivamente questo bug comunque 4 a 0 di punteggio meno 9 per Ricky Jones occhio a Comley pallone per Oglebuff a cercare ancora a darsi che riesce a tenere il pallone e a fare un assist perfetto per Ricky Jones che fa tripletta incredibile Ricky Jones tripletta lampo per il nostro numero 9 5 a 0 Bolton che sta giocando veramente sul velluto quest'oggi devo dire che sinceramente non me l'aspettavo perché so che il Forest Green è un'ottima squadra mi ha dato sempre qualche problema ma quest'oggi veramente non c'è stata partita qui ancora gol di destro per Ricky James che adesso si porta a meno 8 dal record della Ligue 2 e in più arrivano anche i tre cambi per noi qui per sbaglio ho schippato non volevo comunque esce proprio Ricky Jones in campo Gnau poi dentro Graham al posto di Oglibouf e anche Mascol che entra a sinistra come Bacenen come terzino chiaramente occhio qui ancora pallone per Polidic possiamo andare c'è tanto spazio Polidic Gnau rimane in fuorigioco adesso pallone alzato la palla rimane lì Icegrop qui sfortunato potevamo servire prima Gnau però era non so secondo me non era il momento giusto occhio qui Collins è passato Collins no ci siamo fatti fregare malamente qui e ovviamente il gol subito deve sempre arrivare gol di Collins che qui a Taft si è fermato non capisco perché si è fermato proprio boh vabbè sarà la legge che dobbiamo prendere almeno un gol la partita faccio che c'è ancora darsi tocco per Gnau che si gira alla grande cosa ha fatto Gnau facile facile 6 a 1 Bolton segna anche Gnau che diciamo ormai anche lui sta continuando sta avendo una certa continuità di prestazioni positive molto bene il nostro centravanti francese che qui ha ricevuto il pallone da darsi poi si è girato molto bene l'ha fatto sembrare veramente semplice però ha fatto veramente una gran bella giocata è perfetto raga fischio finale qui arriva subito la consegna del pallone per Ricky Jones che manca il tempo di finire cioè comunque manca il tempo che l'abitro fischiasse che subito è arrivata la consegna del pallone 6 a 1 il punteggio peccato come sempre per il gol subito però ormai ci siamo abituati così continuiamo ad andare avanti così beh raga che dire sicuramente statistiche abbastanza esplicite per certi aspetti perché 6 tiri tutto e 6 in porta 6 gol meglio di di oggi veramente non potevamo fare quando è così vuol dire che anche il gioco in un certo senso vuole farci vincere e peccato raga qui il South 4 City praticamente non ha giocato proprio questa giornata è stato fermo quindi adesso si trova con una partita in meno diciamo che a questo punto del campionato è anche importante la contemporaneità tra noi e le South 4 City in più raga se non sbaglio i calcoli visto che il Colchester quarto in classifica si trova a 38 partite quindi vuol dire che mancano 8 partite al termine del campionato anche per noi quindi ci sono 24 punti in palio se il Colchester riuscisse anche a vincere tutte e 8 andrebbe a 86 punti quindi ragazzi questo vuol dire che siamo già promossi in League 1 perché appunto potrebbe arrivare massimo ad 86 il Colchester noi siamo ad 87 quindi non potrebbe raggiungerci quindi adesso l'obiettivo è solamente riuscire a vincere il campionato quindi promozione raggiunta molto bene neanche festeggiata perché appunto noi puntiamo più in alto quindi diciamo in un certo senso la promozione doveva essere il minimo e fortunatamente siamo riusciti a mantenere gli standard molto alti quindi adesso siamo qui a festeggiare una promozione ottenuta con 8 giornate di anticipo ma adesso andiamo ad affrontare Grimsby che è una squadra per nulla semplice da affrontare terza in classifica quindi dobbiamo fare molta attenzione abbiamo Alexander in porta poi Muscle Greenwich Santos se Jones centrocampo con Naidam che è diventato un 68 Graham e Sarce vicino attacco Lewis Porter Niau e Bapaga sulla destra in più raga vi dico che Ricky Jones era estremamente stanco quindi era veramente morto quindi non l'ho portato ma anche in panchina quest'oggi in panchina c'è Miller speriamo di non dovremmi pentire di questa scelta però raga era veramente morto era stanchissimo quindi sinceramente era la scelta più saggia da fare visto che abbiamo ancora Miller che si può sfruttare anche se è abbastanza inutile lì in panchina probabilmente però vabbè vediamo un po' se saremo fortunati occhio Niau qui vedi l'inserimento di Naidam pallone perfetto ancora Tristan Naidam che la mette ancora fuori anche della partita contro il Leighton Orient ha fatto un errore abbastanza simile però era riuscito a sbloccarla a meno quella partita ma adesso fa questo errore veramente clamoroso non da lui e occhio Sarcevic il pallone per Naidam Niau col destro palla troppo alta qui si vede che è il suo piede debole peccato grande occasione poteva fare sicuramente di più però diciamo stiamo giocando comunque molto bene la nostra grinta è sempre la stessa quindi sicuramente riusciremo a fare una buona prestazione anche quest'oggi se continuiamo con questo ritmo Occhio Sarcevic qui attende l'inserimento di Graham che arriva Occhio a Graham è in area Graham no palla fuori se segnava pure Sonny Graham qui impazzivo se non sbaglio non ha ancora mai segnato effettivamente non è un fenomeno Graham però fa comunque delle ottime partite fa il suo compitito nel modo corretto qui peccato diciamo che se lo sarebbe anche meritato il gol Occhio al Grimsby che prova ad attaccare c'è Scannell vediamo un po' se riusciamo a chiudere qui gran pallone dentro per Edwards che la mette fuori ma Edwards era completamente solo dove era finito Jones ovviamente Jones il terzino Catherine Jones che qui l'ha lasciato completamente liberissimo e non deve più succedere una cosa del genere siamo stati graziati qui Occhio qui buona palla dentro di Sarcevic ottimo per Babaga che va col destro Babaga tiro troppo centrale qui buona azione ottima costruzione però il tiro di Babaga troppo debole qui bravissimo Riccardo Santos anticipo incredibile di testa e c'è lui spotter che la tocca per Gnahu che si gira molto bene come sa fare solo lui Gnahu 1-0 siamo passati in vantaggio l'abbiamo sbloccata anche quest'oggi segna ancora Arthur Gnahu che ormai è veramente un giocatore importante per questa squadra completamente differente da quello di inizio stagione che non ne azzeccava una diciamo che aveva bisogno di tempo forse anche con gli allenamenti probabilmente è diventato un giocatore migliore comunque 1-0 l'abbiamo sbloccata quest'oggi non era per nulla semplice meno male che abbiamo Gnahu comunque sono contento che Gnahu mi stia praticamente facendo ricredere visto che fino a qualche puntata fa continuavo ad insultarlo quindi vuol dire che ha fatto veramente tanto perché quando io prendo di mira qualche giocatore è difficile che cambi idea però devo dire che con lui ormai diciamo lo considero veramente un giocatore valido quindi sono molto contento sia per lui ma anche per la nostra squadra qui attenzione però al Grimsby stavo per dire Porto Vale non so perché forse le maglie sono simili però comunque vabbè riusciamo a chiudere occhio Sarcevic ha provato il gran passaggio per Gnahu ma la palla non è filtrata ancora non è da maciaccare Sarcevic per Gnahu ottimo il passaggio per Anthony Sarcevic il capitano 2-0 a tempo appondentemente scaduto qui abbiamo un po' tra virgolette imbrogliato comunque vabbè FIFA lo fa con il nostro avversario ogni tanto lo fa anche con noi 2-0 a tempo scaduto segna il nostro capitano Sarcevic che se non sbaglio era da un po' che non segnavo forse forse mi sbaglio comunque qui bravissimo ancora Gnahu 1-2 ottimo con il nostro capitano Sarcevic che col destro qui non poteva veramente sbagliare se sbagliava anche questa vuol dire che era in crisi ma veramente in una crisi profondissima comunque vabbè 21 gol in campionato mica male è perfetto e giustamente termina anche il primo tempo appena il Grimsby batte comunque 2-0 all'intervallo questo gol è veramente fondamentale ci dà la possibilità di fare un secondo tempo un po' più rilassato e comunque ragazzi attenzione perché si sfidano col Chester e star for city anche il col Chester è un'ottima squadra per il momento sono solo 0-0 occhio Sarsiccic che qui si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto si è smarcato molto bene qui si è creato un 1 contro 2 improvviso e Sarsiccic che qui a porta vuoto non poteva sbagliare doppietta per il nostro capitano che adesso si porta a 22 gol in campionato adesso la partita direi che non è chiusa però ormai ci siamo ormai non posso più dire che una partita è chiusa anche sul 4-0 perché abbiamo avuto bruttissimi precedenti quindi bisogna stare sempre con l'attenzione al massimo e devo dire che ultimamente ci stiamo ecco qui le ultime parole famose Edwards va sul fondo vediamo un po' il cross mascolo anticipato e Tilli fortunatamente la mette fuori comunque non parlo più occhio qui para dentro per Nguau che è passata nessuno l'ha chiusa sta palla Nguau l'ha messa dentro più che chiudere il pallone che non ha senso come frase come espressione nessuno è riuscito a chiudere Nguau comunque letteralmente a prendere il pallone comunque 4-0 Nguau che quasi non volendo ha fatto questa doppietta guardate qui sembrava in anticipo quasi il difensore però ha lasciato scorrere il pallone Nguau praticamente quello aspettava si è portato il pallone leggermente avanti e poi col destro ha battuto ancora il portiere 4-0 devo dire che quest'oggi puntata quasi perfetta occhio ecco qui perciò dicevo quasi perfetta qui c'era un fallo prima però sempre sul giocatore delle Grimsby l'abitro ha dato in vantaggio diciamo che l'ha dato in una situazione dove solitamente non si dà quasi il vantaggio comunque vabbè sta di fatto che ovviamente dobbiamo subire il gollo il fallo era quello lì errore da parte di Mascola a meno credo comunque vabbè ci può stare tutto sommato 4-1 col subito da Williams e arrivano anche i tre campi per il nostro Bolton dopo questo col subito in campo proprio Miller a posto di Mewa diamogli qualche minuto poi dentro Polidic per gli Uwispotter e anche Tutte che non giocava da un po' comunque entra a posto di Naidam Occhio qui Polidic subito il pallone dentro per Miller Occhio Miller gol di Miller appena entrato la butta dentro 5-1 non ci credo grandissimo Miller che non so veramente da quanto tempo non faceva qualche minuto comunque sta di fatto che appena è stato messo in campo l'ha buttata dentro lui credo che si ritirerà anche a fine stagione quindi diciamo fa anche piacere che un giocatore si ritiri con la nostra squadra oltre a lui sicuramente si ritirerà anche Gilx e penso anche Baptiste quindi speriamo di potergli dare una gioia finale con due coppe praticamente la prima che ormai è quasi fatta ovvero il campionato e poi si spera di poter azzare l'IFL Trophy che poi raga se riusciamo a vincere entrambe le coppe vuol dire che siamo stati veramente in gamba perché erano effettivamente le uniche due competizioni che erano alla nostra portata perché ovviamente Carabao Cup e F Cup sono ancora al momento irraggiungibili per noi Roccio Sarcevic che qui avanza ormai la difesa del Grimsby non esiste più Miller doppietta non ci credo ma sembra veramente che abbia abbassato la difficoltà ad esperto fanno veramente cose incredibili diciamo che è il periodo in cui il gioco vuole che tu vinca diciamo che purtroppo la carriera funziona così ci sono mesi che il gioco vuole che perdi invece altri vuoi che vinca e diciamo è palese proprio a volte perché soprattutto quando devi perdere non puoi fare veramente nulla ma anche quando devi vincere cioè sembra veramente di giocare esperto o addirittura direttante comunque avete capito comunque raga Miller appena entrato non giocava da un tot doppietta occhio ancora Sarcevic buoni pallone per Graham che la larga per Papaga manca anche lui all'appello Papaga vediamo un po' prova a mettere dentro per Sarcevic che fa tripletta Anthony Sarcevic 7 a 1 Bolton incredibile il nostro Bolton che ha asfaltato il Grimsby dopo il 9 a 0 contro il South for City adesso arrivano 7 gol anche diciamo nei confronti o comunque nei confronti del Grimsby che è terzo in classifica quindi vuol dire che sicuramente è un'ottima squadra però a caso di questa sconfitta potrebbe rischiare tanto perché il Colchester avendo una partita in meno è anche a meno 3 punti rispetto al Grimsby quindi raga in caso di vittoria della partita che deve recuperare sarebbero a pari punti e poi nel caso il Colchester riuscisse a fare punti quest'oggi visto che deve comunque sta affrontando il 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 sarebbe diciamo una una bruttissima sconfitta questa qui per i Grimsby ma soprattutto una brutta notizia e con ogni probabilità dovrebbe andare a disputare i playoff comunque sto parlando troppo intanto tutte qui continua ad illuminare il mezzo al campo ma Miller questa volta non ci arriva ho ciò che c'è ancora Miller vedi papaca che poteva inserirsi ma l'abitro ha deciso di fermare tutto qui diciamo che non ha molto senso fermare il gioco a questo punto comunque vabbè altra tripletta dopo quella di Ricky Johnson nella scorsa puntata adesso tocca ad Anthony Sarcevic che secondo me è la prima tripletta che fa con la nostra maglia sinceramente non mi ricordo però ha fatto tanti gol quindi può essere che ne abbia fatte altre ecco allora raga fatevi vedere io qui non ho visto più perché non ho fatto in tempo a vedere nella schermata precedente mi sembra che abbia pareggiato perché era a 73 punti quindi io penso che la partita sia finita o proprio 0-0 comunque hanno pareggiato andiamo a vedere un attimo si raga la partita è finita 0-0 questo vuol dire che abbiamo rosicchiato altri due punti al Starforce City adesso siamo a vabbè in questo momento siamo a più 16 però hanno sempre quella partita in meno che ormai effettivamente fa la differenza quindi è sicuramente c'è sicuramente da aspettare l'esito di quella partita del Starforce City comunque vabbè non facciamo ancora calcoli sappiamo che ci manca poco dobbiamo essere consapevoli di questo comunque raga adesso se il appunto come vi ho detto prima se il Colchester riesce a vincere quella partita si porta al terzo posto è perfetto raga quest'oggi è stata veramente una puntata pienissima di gol puntata trionfale siamo riusciti ad arrivare in finale di coppa e poi a vincere due sfide molto importanti di campionato che ci avvicinano sempre di più alla vittoria del titolo comunque io posso fermarmi qua per oggi quindi vi invito a lasciare un like un commento ma soprattutto a iscrivervi al canale noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!